tutto pronto qua iniziata adesso la partita delle ore 19 barrio contro i fanciulli fa freddo oggi i campi del san rocco 12 novembre è avuto prima ha fatto bella acquazzone adesso le condizioni del metro sembrano permettere di giocare se n'era serenamente sta partita allora dicevo barrio contro i fanciulli fanciulli che stanno giocando in contemporanea contro i city blinders che però sono decimati vista l'assenza dei due suoi giocatori caimano e petrocelli mentre invece il barrio il barrio si presenta solamente a cinque punti in classifica e darsi una svegliata se vuole puntare le prime fasi la champions mentre invece quindi andiamo a leggere le formazioni partiamo appunto dal barrio che si presenta con enderson tra i pali brian dominguez anderson a te vedo kevin gomez erlindo martinez jesus aguilar javi martinez anderson martinez e mauricio n hernandez mentre invece per i fanciulli vista l'assenza di caimano e petrocelli intanto importa ho trovato samuel oggi lo chiamiamo così il suo nome e cognome albanese su ca ci permetterà di nominarlo noi ameremo samuel comunque in porta ci va russo poi giuseppe de paola lante marocco a montella di leva morel morelli appunto samuel questo siamo pronti si gira aguilar scambia brian lancio lungo attenzione diventa un tiro russo due volte poi con un fallo pure via non rischiamo ancora le paola la rimessa barrio da con le mani aguilar brian di testa come si appoggia in porta e c'è il gol del barrio vediamo se c'è stata una regazione o no mi sembra che ha segnato di enderson a se vedo è pronto samuel ma importa sulla barriera come lante in questo fallo gira dall'altra parte morelli sbaglia sarà rimessa per hernandez va a lunga hendy quasi la intercetta montella con le mani morelli attenzione oggi ci sono c'è un nemico in comune per entrambe le squadre quella puzza d'acqua in mezzo al campo che rende ingestibile l'appoggio e il gioco c'è la calcio d'angolo intanto pronto morelli va su brian a lancio lungo per gomez ancora gomez la controlla poi vuole passare di leva la butta il calcio d'angolo brian ora mezzo la palla arriva col sinistro palla fuori di poco si va da montella gira vede paola all'altra parte per morelli che non aggancia con le mani morelli recupera ancora montella vedere se montello marotta quello col cappello non ho capito per ora si chiamava montella lancio lungo per samuel montella lancia lungo per marotta la rimessa per il barrio samuel si gira bene arriva montella lo chiude palla la palla si vedo lancia lungo per gomez controlla sulle prendere questo angolo ci riesce quindi se la calcio d'angolo tutto a battere in mezzo arriva brian nella palla rimane la che parata qua di ma di russo bella parata montella forse con una mano si gioca intanto si gira brian arriva ancora che spazza lungo scende adesso la nebbia qua sul campo del san rocco si gira subito avi verso brian martinez come fernandes ma la palla arriva gomez leva l'ante voglio dire scusatemi controlla e può partire ancora l'ante si va da samuel di forza poi palla che spazza direttamente fuori la rimessa per i fanciulli viera jesson non avi brian gira direttamente da andy le lanciare lungo montella intercetta agli lar quasi la prende con la montella però valla che va a fine sull'arbitro vada samuel mezzo andy la blocca e va subito da maurisio bravo 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 bra rileva meglio 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 di paola lancia samuel chiuda martinez attenzione dominguez ancora bryan si guarda intorno ma da erlindo martinez gerson quasi una finta non riesce a prendere il pallone l'ante controlla e vada montella ancora per l'ante lo chiude person mauricio per gomez non riesce a passare su di leva la valla arriva ancora di leva che calcia messa dal fondo avrendi mio dal fondo intanto lunga mauricio la palla su di leva l'ante lancia di leva velocissimo ma valla che non esce ancora di leva finte deriva poi guadagna ancora rimessa dal fondo e subito lancio lungo samuel scambia dei paola per russo difficoltà ci sarà rimessa dal fondo la palla che si alza di testa per agli largo russo la blocca palla attaccata al corpo mano attaccata al corpo voglio dire siamo è attaccata al corpo quindi non è rigore montella si vada di leva che nebbia adesso ragazzi qua sul campo sembra quasi poco da di testa samuel bella samuel si sarà rimessa dal fondo torna capo adesso mi sembra quasi difficile vedere chi c'è in campo questa la video non si nota caro fabio adesso diventerà tutto un po più difficile montella marotta di leva si addormenta c'è gomez che ne approfitta recupera poi ancora di leva che recupera non riesce a controllare già rimessa dal fondo messa con le mani maurisio alla che va fuori ancora barrio aguilar si gira e calcia sarà calcio d'angolo barrio che sta spingendo molto questo inizio ma in mezzo russo con una mano c'è samuel che controlla e può partire ancora marotta ancora samuel marotta c'è maurisio che può approfittarne rivas e chiede calma e parte guarda guarda maurisio di leva chiude l'ante poi riesce a passare ancora l'ante in porta handy con una paratona arriva di leva la palla che rimane è la erlindo chiude montella si va da russo russo attenzione e c'è il gol di gomez con un errore incredibile di russo barrio che ne approfitta e va su 2 a 0 vantaggio doppio vantaggio del barrio un errore di russo che fino a qua ha fatto una bella parata ci aveva fatto un bel intervento prima intanto è rimasto a terra esus grazie si gioca di là intanto morelli per montella ancora si va da russo fa di finte aguilarro maurisio in qualche modo si va da gomez ancora gomez finte ci sarà calcio d'angolo prima sfinta ancora in mezzo da gomez ancora gomez ma la che esce ci sarà calcio d'angolo rimessa dal fondo non vedo non vedo tocchi non vede niente va giù a forza dalla camera guarda qua come siete bene De Paola lancia a lungo altrimenti da Andy ti gira c'è l'ante che può partire tu ne sa chilarro e c'è Brian maurisio finta su montella che non passa quella montella con un fallo sono pronto mi manca il campo mister pure che si voleva tirare non stava sulla distinta quindi non puoi giocare tanto spero che viene un po' di vento che magari si porta via questa nebbia perché intanto di là non si vede via la porta Samuel che rimbalza il canzo vero questa nebbia è pronto Samuel va in porta la chiusura di Aguilar si va da Russo Montella di testa l'ante ancora per Montella è morto Fabio attenzione a fare l'arbitro Samuel ancora insiste poi la chiusura di Maurizio pronto l'ante si va in mezzo il pallone che passa Erlindo in qualche modo Rivas combatte là in mezzo poi si sarà rimessa ancora per i fanciulli Maurizio gira dall'altra parte Russo lunga Aguilar Russo con i pugni c'è da qua il pallone non si vede Aguilar di leva per Morelli riesce ad uscire poi Montella intercetta Gomez riesce a passare ancora di leva spazza Andy la blocca Maurizio gira d'altra parte per Brian lunga di testa di leva per Montella finta e riesce a passare si va da Samuel Morelli ancora per Samuel passa di forza poi la palla che esce non è stata a fondo non è stata a fondo Brian Rivas lunga le palla di testa Maurizio la mette giù no Erlindo poi chiude l'ante controlla si va da Montella rimessa ancora per i fanciulli lunga Brian in qualche modo ma favorisce Morelli che non aggancia il tiro ci sarà rimessa dal fondo se no ci sarà calcio d'angolo fatto Fabio batte questo angolo la palla che passa l'ante non ci arriva rimessa per il barrio perché Morelli ancora Morelli si va da Montella l'ante per De Paola finta centralmente si va da di leva per Marotta Brian recupera attenzione scivola il pallone che non esce favorisce Rivas ancora Brian lancio lungo per Gomez aggancia per Aguilar Brian in mezzo forte passa per Gomez che non va finisce qua al primo tempo risultato che vede in vantaggio il barrio per 2 a 0 tutto pronto per questo secondo tempo tra i fanciulli e il barrio risultato che vede in tanta attenzione in porta risultato che vede in vantaggio il barrio per 2 reti a 0 Brian conquista questo calcio d'angolo Gomez sbaglia Marotta non ne approfitta siamo perlindo di testa Samuel vuole coordinarsi infinta ancora va in porta un'altra bella parata qua di Andy ci sarà calcio d'angolo in mezzo di testa la palla che esce ancora calcio d'angolo sono rimessi dal fondo pronto a partire Brian va a lunga Montella controllo e parte lo chiude Brian si va centralmente ancora Brian gira tutto ancora Rivas in mezzo tiro cross la palla che esce sarà rimessa per Russo parte ora Brian di testa attenzione Anderson ci aveva provato non l'aveva controllato ma si è attirato De Paola attenzione perde la palla e può portare Javi per Aguilar che non va di testa Rivas la palla che passa poi prende un calcione Gomez ma si gioca ancora Morelli Brian ancora la palla che non esce esce ora Marotta ancora avanti è un calcio l'antel ancora l'antel palla che va fuori sarà rimessa rendi chiama tutti in avanti Brian di leva la palla ce la Javi la perde può profittare nelante centralmente si gira da Samuel finta il tiro non sa chi darla sono tutti marcati qua lo chiude Aguilar poi attenzione Ayer come la quattro no il quattro Anderson va in mezzo Ayer Lusso chiude dai Paola va dalante si gira a Morelli la palla che va fuori rimessa ancora a Fanciulli con le mani lunga l'antel controlla calcia in porta Andy la blocca e va subito in avanti Anderson De Paola poi con un fallo pronto te Paola Brian appoggia da Rivas la palla che arriva ancora Brian centralmente Sumba Gomez ancora verso Brian si gira da Anderson ancora Brian vuole calciare Samuel va addosso si continua del vantaggio poi Erlindo Guadair ancora Gomez con le mani quella che passa l'ante si allunga si allunga palla che non esce non è fallo si gioca ancora va in porta e c'è il gollo per il 3 a 0 3 a 0 doppietta che se vedo credibile qua i fanciulli che non riescono a fare gioco sarà che comunque mancano i suoi giocatori chiave ma comunque di barrio oggi sta giocando davvero bene il risultato che vede vantaggio di 3 goal Samuel fallo parte Samuel bassa palla che passa sarà calcio d'angolo va De Paola di Erlindo messa con le mani per De Paola per Di Leva la VR controlla di testa Anderson come per Brian va in mezzo Russo la blocca e si va da Montella per Samuel Marotta calcia male ci sarà rimessa dal fondo Morelli di petto Montella Samuel di forza calcia e spacca la traversa Fuma Dominguez controlla attenzione guadagna una rivessa dal fondo c'è a basso da Gomez Brian gira Erlindo lunga per Jesus Aguilar aver controlla riesce a passare poi Maurizio calcia Russo il calcio d'angolo va in mezzo lo chiude Montella c'è Brian controlla finta il tiro lo prova ora va in mezzo quasi di forza di leva poi controlla in avanti Montella Maurizio controlla e si va Erlindo dall'altra parte Gomez passa avir per Brian ancora Maurizio vuole calciare lo prova palla fuori rimessa dal fondo attenzione Montella non passa su Brian crete davanti Montella poi di forza Morelli di leva la palla a Marotta lo chiude l'ante poi di leva gira a Montella la palla per Samuel che va in mezzo in porta sulla traiettoria Marotta poi calcia arriva Samuel alla parata di Andy poi Brian è già ancora rimessa dal fondo quindi ci sarà calcio di rigore per questo abbraccio in area di rigore che prima si apre poi dopo si chiude controllo al VAR sì c'è calcio di rigore tutto pronto e parte l'ante già sul dischetto l'ante contro Andy ballante in porta per il 3 a 1 3 a 1 quindi il risultato i fanciulli che non mollano pronto Brian che ben porta dalla cash tira subito intanto l'ante ancora fanciulli di testa Gomez la palla che arriva ancora Brian va in mezzo per Gomez la chiusura di De Paola che è successo di qua intanto la munizione per l'Indo una munizione improvvisa per qualche parola di troppo animi che si sono riscaldati dopo il calcio di rigore da parte del barrio Montella di leva ancora di leva si gira un fallo si va a lunga pronto Brian va a lunga Montella va a avanti Erlindo in qualche modo poi Samuel sportellate con Erlindo ancora Samuel che passa poi con un fallo tanto di là ancora Samuel va in porta Andy la palla che arriva al russo attenzione la porta è sguarnita Gomez ne approfitta e fa il 4 a 1 un altro errore difensivo dei fanciulli e il barrio ne approfittano e doppietta anche per Gomez 4 a 1 quindi il risultato Morelli Anderson poi Brian lunga troppo lunga messa dal fondo Russo attenzione Lante va in porta Andy la blocca Maurizio ancora si gira attenzione la perde c'è Samuel finta ancora Samuel di forza palla che esce di poco fuori sarà ancora rimessa per il barrio Erlindo sbaglia ancora in palla che favorisce Andy se vedo ancora finta riesce a passare può calciare male pronto Russo Lante avvero per Jesus che si gira e calciapalo che stava inventando di leva scavazzate il piede pronto qua ancora Samuel a battere questo calcio di punizione va forte in porta ancora Andy che partita del portiere del barrio Brian si gira da Jesus Aguilar un po' male questo passaggio è un po' troppo lungo riesce a controllarlo però palla che esce è ancora rimessa per i fanciulli Lante gira bene lancia lungo Brian controlla fa sportellate riesce a passare ancora Brian e va da Gomez ancora Gomez tirato impallato rimasta terra Samuel sbaglia sbaglia il passaggio Montella ancora lungo non ci arriva a r troppo lunga c'era rimessa questa torcia Samuele fa sportellate ancora su Brian che passa e lancia lungo jesus a troppo lunga messa dal fondo pronto russo va lunga palla Montella ancora Montella riesce a passare mezzo a due la palla che arriva Samuele rimpallato ancora Samuele ancora Andy che chiude tutto ma di confusione a se vedo per Brian lancio lungo di testa di paola di leva Maurizio lancia c'è Gomez si gira Gomez non riesce a calciare ci sarà rimessa mister ma vuole che la partita finisca che vedo che stai andando entrando aspetto il triplice fischio in mezzo russo poi di leva poi te paola quella che va fuori pronto Brian con le mani dicevi mister ci manca troppa gente oggi oggi siamo proprio a corto di persone mi hanno detto che mancano i due ma non solo loro ma ci manca pure il nostro centrocampista forte chi è chi è Maggiore ah manca anche Maggiore intanto in porta ci ha provato Marotta e finisce qua il barrio porta a casa tre punti qua alla fine della partita tra i fanciulli e il barrio risultato che vede vincente il barrio partiamo di prima delante allora perdete una partita perché comunque mancano meno detto tre quattro elementi forti ma comunque oggi avete incontrato un avversario molto duro come il barrio e comunque tecnicamente sono bravi oggi hanno dimostrato che hanno meritato più di altro la vittoria però il barrio però comunque noi eravamo veramente in emergenza abbiamo giocato meno di metà squadra c'eravamo ma abbiamo giocato malissimo abbiamo anche sfiga e abbiamo fatto cazzata in difesa quindi testa alla prossima che comunque state là non so di essere il risultato dall'altra partita ma comunque vedete ancora tra le prime posizioni non è preoccupato fase a gironi ci può stare poi il barrio speriamo di ribeccarlo in fasi più avanzate bella rivincita ok grazie Lante a te ciao andiamo da Andy vieni qua vieni qua allora diciamo che tu sei il migliore in campo e comunque hai chiuso la porta ti hanno battuto solamente su un calcio di rigore ok non sono stato troppo fortunato comunque ha calciato troppo forte e niente è stata una bella partita ce l'abbiamo giocato bene aspettiamo di giocare così sempre sì perché comunque già avete giocato bene ho detto tu hai già chiuso davvero a chiave la tua porta hai fatto belle parate abbiamo fatto quello che che dobbiamo fare sì adesso mi mettete mi sembra a otto punti sei da cinque punti più tre otto e anche voi adesso vi rilanciate per un posto in Champions siamo siamo in quello ma noi vogliamo sicuramente il posto in Champions però noi vediamo ancora l'altra partita sì perché comunque manca ancora un bel po quindi il mio augurio a che andrete più avanti possibile ciao Andy grazie ciao ragazzi ciao